Alti e bassi nell'Abruzzo del pallone con le portacolori tutte in campo nella domenica sportiva. Al Del Duca cade il Pescara con Lascoli che capitalizza il gol di Romeo e mette le mani su tre punti d'oro. Bianconeri di Castori che mettono in campo più grinta e voglia. Niente drammi in casa bianco-azzurra con il rammarico però di aver perso l'ennesimo treno playoff. Abbiamo creato tante balle-gol, siamo stati bravi a non perdere mai la fiducia perché dopo un dominio e le occasioni non concretizzate poteva subentrare il nervosismo, la sfiducia. Invece siamo stati bravi oggi. Abbiamo fatto il gol quando eravamo all'assedio finale e ci siamo presi questi tre punti che ci mettono comunque in una buona posizione classifica per l'obiettivo nostro. In prima divisione 1-1 del Lanciano allo Iacovone di Taranto con i rossoneri che passano in svantaggio poi trovano il pareggio con Titone. I playoff rimangono distanti sei lunghezze. A quattro turni dal termine la stagione è ormai segnata con la Virtus che pensa agli errori del passato e guarda il futuro con occhio incerto. In seconda passa l'Aquila nel derby col Celano col classico risultato 2-0 il finale. I rosso-blu volano in terza posizione condannando i marsicani ad un finale trilling. Fuochi d'artificio all'Angelini col Chieti che rischia contro il Fano rimonta due reti, non molla il carro playoff vincendo poi per 3-2. Questi ragazzi forse ci hanno dato più di quello che chiedevamo all'inizio però a questo punto ho detto anche giorni fa loro non devono farlo né per il Chieti perché il Chieti lo devono fare per i tifosi del Chieti e per loro stessi perché comunque secondo me ci sono dei ragazzi che qua meritano una categoria superiore. Salvezza in cassaforte per il Giulianova che passa a Gavorrano grazie a Suriano e Margarita confermando lo splendido momento di forma frutto della cura di Meo. Comunque siete riusciti a fare qualcosa di più rispetto a Gavorrano almeno a parte sul piano della motivazione ma credo anche sul piano dell'impegno. Ma da quando sono arrivato io qui a Giulianova l'impegno, cioè la squadra si è sempre impegnata al 100% perché è impossibile non impegnarsi con me sinceramente. In Serie D vince il Teramo, cade la Sant sul terreno della capolista Sant'Arcangelo che già pregusta la promozione, vince a Boiano la Tessa Valdisangro pari dell'Angolana contro la Civitanovese, scivolone esterno per il Luco Canistro. Il Miglianico cede in casa alla San Benedettese e saluta, manca solo l'aritmetica, la categoria.